Come è stato la prima volta in Abruzzo? Come è stato la presenza di Luca Leone per riaverti qui? Sicuramente è stato importante perché è stato il primo quando ero all'estero, quando nessuno mi conosceva a credere in me, nelle mie potenzialità e quindi mi ha dato modo di fare un bel campionato, di esprimermi magari facendomi acquistare anche dall'Atalanta e quindi è stato importante però devo dimostrare, non devo tradire assolutamente la sua fiducia come la fiducia dei miei compagni. L'anno scorso è stata positiva, gli ultimi mesi a Ascoli perché ci hanno permesso di salvarci nonostante la squadra fosse messa male a gennaio, diciamo che quest'anno sarà una stagione, voglio dare continuità a quella che è finita precedentemente, quindi cercherò di dare il massimo e speriamo che possano succedere cose importanti. Sì, per me anche rispetto all'anno scorso nella squadra è ottima perché abbiamo doppioni su ogni ruolo e quindi diciamo che gli obiettivi sicuramente sarà partire positivi, magari puntando subito ai playoff e poi magari quando dovessimo essere in una posizione favorevole poi penseremo in grande, casomai. Però quello che prometto è che lotterò sempre dal primo all'ultimo come avete visto anche Bassato e quindi cercherò di dare il massimo per regalare una gioia ai tifosi.